Cosa faresti volentieri a meno nella vita di quello che hai fatto? Se devo dire la verità, rifarei tutto, perché non ci ho capito niente su certe cose che ho fatto. Per cui, che vuol dire di me? Non rifarei o rifarei? Ho fatto, penso sempre ai ricorsi, ai trascorsi, ma guarda avanti. Ma se tuo figlio facesse un quarto di quello che hai fatto tu, saresti contento o no? Ma solo un quarto, perché l'altro quarto mi farebbe male. Cioè, quando tu racconterai a tuo figlio tutto quello che hai combinato, perché tu hai fatto, insomma, sei stato arrestato, ti sei fatto un anno in galera? Sei mesi, altre volte, due mesi alla seconda. Non so se è vero, ma mi hai raccontato, quando eri dentro, a un certo punto ti sei messo con i politici sul tetto a far la rivolta. No, lì l'ho stato uno sfigato, è diverso. C'è stata una sfiga. Ecco, lì la fortuna non mi ha aiutato. Ma scusa, tu sali sul tetto del cartello? No, ma tu fai, io non ho fatto niente, perché era una storia d'amore, bellissima. Vado, si sono sbagliati, entro in questo per il pensario, dove c'è una rivolta in corso. Pensa, come un cretino, mi sono messo pure io a fare, o il scemo, ho preso solo schiaffi. Pensa che coglione.